Signori miei carissimi, ben ritrovati sul canale con questa clipettina diciamo così un po' goliardica ma che comunque si lascia guardare molto suadente, caliente. Volevo rendervi partecipi di questo avvenimento che ci ha regalato momenti di euforia e delirio. È stata una roba semplice ma veramente d'impatto. Sostanzialmente nella serata del 18 settembre i server di Sony avevano eclatanti problemi inizialmente pensavamo fosse solo qualcosa di adibito a Dead by Daylight in realtà anche soltanto entrare in party o con qualsiasi altro gioco risultava impossibile trovarsi, fare gruppo e soprattutto giocare a qualsiasi titolo multiplayer. Ok? Online, giustamente. Sostanzialmente allora noi che volevamo farci la seratona de fuegos su Dead by Daylight abbiamo trovato degli inglippi incredibili e siamo riusciti a trovarci per giocare e vi vedrete è stata una roba assurda. Poi ormai è passato del tempo da quando sto finendo di registrare questo video abbiamo scoperto Sony ha reso noto dopo molto tempo che era stato proprio un attacco hacker ne avevamo già parlato anche in scorse live in poche parole non riuscendo a creare un party a fare squadra per appunto poter giocare a Dead by Daylight che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a cercare la partita ognuno per i cazzi suoi ognuno ha fatto accedi ad una partita come se fossimo in solitaria sperando che appunto dato che c'era questo inglippo il gioco ci mettesse nello stesso gruppo nella stessa squadra è stato incredibile è stato incredibile perché praticamente su tutte le persone che c'erano online ci ha messo insieme non è nulla di che lo so però ci siamo divertiti tanto volevo rendervi partecipi signori miei vi lascio il video alla clipettina io vi saluto e vi ringrazio ci vediamo come al solito ad un prossimo appuntamento sul cannalissimo ciao a tutti e grazie ciao ciao aspetta un attimo se no intanto cercatevi voi due voi tre ma dove è dentro? si allora provate dai intanto aspetta un attimo aspetta un attimo ecco anch'io ecco pronto allora vai pronto gioca due tre pronto pronto ma allora se ci unisce no pronto pronto e dove è uscito la lobby no ci sono pronto pronto adesso entriamo f***a tutti poi non si dice mai più eh per sei giorni si lascia attaccata alla corsa non si dice più eh no che nel quel killer diciamo vai ascolta la situazione è questa facciamola durare allora cioè è inutile che fai finta perché so che almeno altri tre ci sono che stanno giocando smettile attenzione attenzione no io no eh ecco c'è anch'io eh anch'io eh non ci credo no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no io non ho parole no questa è da clipare si 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 clipare clipare no vabbè questa è la cosa più bella no vabbè no vabbè no vabbè